Sono sette giornate, lunga, lunghissima, ci sono squadre molto più attrezzate di noi. Noi combattiamo ogni partita, a me basta che i ragazzi lavorino in questa maniera. Non gli posso dire assolutamente nulla per impegno, per abnegazione. Sono ragazzi eccezionali, siamo partiti bene secondo me. Abbiamo fatto una prima parte di primo tempo bene, poi Messina è venuto fuori, ho palleggiato molto bene. Faccio complimenti perché è una squadra allenata bene e secondo me è una squadra forte di categoria. Ci ha messo un po' di difficoltà, abbiamo preso un po' le misure poi. Secondo tempo abbiamo gestito meglio, poi siamo riusciti anche a sviluppare meglio la manovra e poi abbiamo avuto delle possibilità e siamo stati bravi secondo me a capitalizzarla.